Francesca Rottagentile, neopresidente dell'Università delle Tre Età di Sanremo. Avete già predisposto con il nuovo direttivo un ricco, nutrito calendario, anche con nomi e ospiti importanti. Sì, molto prestigiosi. È stato per me veramente un grande onore essere eletta presidente di questa associazione, che è un'associazione autonoma locale dell'Associazione Nazionale dell'Università delle Tre Età, che ha sede a Torino, che è un'associazione basata sul volontariato del direttivo e di tutti i collaboratori. Perciò veramente una grande responsabilità che ho accolto con entusiasmo, ma anche con un pizzico di incoscienza. Siamo riusciti a predisporre un calendario annuale, tutto l'anno accademico, davvero notevole, con la proposta di 50 conferenze, un'offerta bisettimanale, le lezioni saranno due volte alla settimana, per la prima volta, il lunedì pomeriggio alle ore 16 presso la biblioteca di Sanremo, al Terzo Piano, in Via Carli, e il venerdì pomeriggio nella sala di rappresentanza del Comune di Sanremo, la Sala degli Specchi. Però si parte il 28 ottobre al Teatro dell'Opera del Casinò. Esatto, il 28 ottobre alle ore 16 faremo una bella inaugurazione di tutto l'anno accademico, proprio nel Teatro dell'Opera del Casinò, che grazie sempre al Comune di Sanremo, che quest'anno c'è particolarmente vicino, abbiamo a disposizione e avremo un ospite illustre e veramente brillante, uno dei giornalisti più apprezzati del panorama italiano e non solo, che è Antonio Caprarica. Ci presenterà il suo ultimissimo libro, in uscita proprio in questi giorni, che è appunto dedicato alla regina Elisabetta d'Inghilterra.